Dal centro studi sul duello antico il maestro Tomaselli. Oggi parleremo di un colpo, un colpo che viene tramandato nella tradizione della gladiatoria dalla lotta antica greca. Il termine infatti in greco è parembole e para in greco si intende ciò che è laterale, i lati, le famose paragnati degli elmi sono proprio le coperture qua laterali alle orecchie. È un colpo che tende ad accerchiare ed è proprio lo scopo accerchiare l'avversario, un po' come fosse una strategia di guerra tra eserciti dove un'ala di un esercito accerchia l'altra, quella nemica. E qua la stessa cosa, il tutto deve avvenire ovviamente in maniera solitaria uno accerchia un altro. Per fare questo era necessario però che l'armamento di uno dei due fosse di un tipo rispetto all'altro, ovvero vado a spiegare. Sapete che i due grandi partiti della gladiatoria erano gli scutari e i parmulari, io già ne ho parlato e ne ho anche pubblicato nei miei libri, nei miei articoli, per cui i due partiti erano tra di loro, si potevano confrontare come tipo di armamento difensivo e potevano anche essere interscambiabili, affrontarsi tra di loro. Questo perché? Perché nella gladiatoria l'anfiteatro è un laboratorio di ricerca per l'antico romano, lui vuole vedere quali sono i limiti massimi e minimi di un'arma e di un armamento e li vuole vedere da tutte e due le parti, vuole vedere tutti i vari confronti, vuole vedere qual è il migliore e in quale condizione. Questo per dire cosa? Che questo tipo di colpo si effettua se c'è un parmulario contro uno scutario. Lo scutario è quello che ha lo scutum, che in genere è quello scudo che vedete rettangolare, imbracciato in maniera verticale, il braccio poteva spostarsi in questa maniera ma non poteva fare molti altri movimenti. Il parmulario invece ha una parma che può essere spesso impugnata, a volte anche imbracciata, che però richiede una manovra molto più agile, molto più veloce, molto più eclettica se vogliamo, più artistica in un certo senso. Può agire su più parti, su più aggressioni in maniera molto più veloce, ha minor copertura nel volume ma ha maggior copertura nell'azione. Per quello l'uso della parma richiede una tecnica proprio artistica superiore. Mentre per lo scutum hai una copertura maggiore ma bisogna essere molto più stabili, un po' più fermi, un po' più... osare meno perché si rischia abbastanza nel muoversi e nel scoprirsi, soprattutto con un avversario che è molto più veloce, molto più agile e molto più efficace nelle azioni di rapidità. Per far questo ho bisogno della collaborazione del mio grande collaboratore Davide, eccolo qua. Adesso andremo a fare vedere questo tipico colpo, come dicevo, che si chiama parembole, lo ripeto, che proprio tende ad andare, ad accerchiare l'avversario. Faremo questa prova con, vedete, è una rotella, però viene tenuta da Davide imbracciata come fosse uno scutum, cui non avrà la capacità diciamo più eclettica, come dicevo prima, di una rotella ma molto più limitata di uno scutum e vedremo la differenza tra una parata con lo scutum e una parata con la parma dello stesso tipo di colpo, cioè di questa parembole. Vedete che anche se lui ha la copertura ha un rischio mostruoso, gigantesco che va verso la gola o le parti comunque più delicate del corpo, cioè rischia di prendere il colpo e rischia di chiudersi, per cui in questo caso non ha quella mobilità che gli permette di poi poter aggredire ulteriormente. Rivediamolo un attimino. Vedete che addirittura se è in ritardo può essere colpito. Con questo tipo di scudo il ritardo ci può stare. Proviamo adesso a vedere con la parma, cioè due armamenti uguali, due tipi di armature uguali e vediamo la differenza dello stesso tipo del colpo. Vedete la rapidità di utilizzo della parma? In questo caso gli ha permesso di essere veloce, anzi velocissima, nel poter, anche spostandosi, difendersi da un'aggressione molto più ravvicinata. Grazie Davide. Questo per indicare a grandi linee ovviamente, per dare un esempio, non vuole essere una riproduzione perfetta di ciò che poteva avvenire in un anfiteatro, è semplicemente un aspetto didattico. Io vado sempre a spiegare didatticamente le tecniche e gli usi delle armi. E sono contesti ovviamente, come dire, limitati, collaborativi, eccetera, eccetera, per cui è solo un aspetto didattico che si va a far vedere del colpo. Se capitasse di vedere alla lettura di parembole, uno sa di che cosa stiamo parlando. Se vedesse come si vede in certi rilievi di pietra, marmorei o certi mosaici ancora giunti fino a noi su rappresentazioni di duelli gladiatori e queste azioni si vedono, si vedono. Ci sono dei casi in cui si vede lo scutarius che sta dando quasi le spalle perché sta scappando da un altro che spesso è un parmularius che lo sta, come dire, incalzando. E quella posizione lì è già una posizione, come dire, fatale per lui perché è una fotografia di quello che sarebbe accaduto, quello che poi sarebbe finito nel famoso hoc abet da parte del pubblico dell'anfiteatro. Vedeva l'azione, il pubblico sapeva già che dopo quello non avrebbe avuto molta speranza. Anche perché bisogna tenere presente che questo spazio è già grande, nel senso che magari non è detto, però se c'è la linea o un sine fuga, come già ho espresso e ho spiegato in un video precedente, c'è un limite ancora più ristretto, per cui superata quella linea vuol dire aver perso e starci dentro non è facile, non si ha spazio né per prendere fiato, né per ragionare, né per poter pensare a una strategia, non è il ring del pugilato che è molto grande e permette anche magari muovendosi un attimo di respirare o di prendere distanza e di pensare a cosa fare. Qua tutto avviene in uno spazio strettissimo, schiacciato, dove gli scambi sono immediati e lì bisogna essere proprio capaci immediatamente nella reazione, perché le armi vogliono questo. Bene, direi che per la parembole ci possiamo fermare qui, ci diamo appuntamento a un prossimo video e come sempre quad per duellum acquiritur, de jure acquiritur. a un prossimo video.